L.I.G. è già da qualche anno che ha cominciato a offrire sui propri televisori dei menu piuttosto completi. In questo caso possiamo vedere il menu della serie SL8000. Questo è il menu principale e come possiamo vedere con delle icone piuttosto grosse sono ben identificati le varie sezioni. Il menu di immagini in particolare è ricco di impostazioni. Qua possiamo vedere quelle classiche e nel sotto menu controllo avanzato possiamo vedere funzioni particolari come i vari filtri d'immagine, come il contrasto dinamico, il colore dinamico, la riduzione del rumore, il controllo del gamma, eccetera. In particolare catturiamo la nostra attenzione il circuito True Motion a 200 Hz che usa una combinazione di interpolazioni di fotogrammi e backlight scanning e possiamo vedere può essere impostato su due livelli, basso e alto oppure completamente disabilitato. Il TV L.I.G. dispone di varie modalità preimpostate di immagine più due banchi per gli appassionati più esigenti che permettono la calibrazione ISF. Ciò vuol dire essenzialmente che abbiamo più parametri d'immagine da poter regolare. In particolare se andiamo ancora nel controllo esperti, che sarebbe il menu avanzato, abbiamo ulteriori filtri d'immagine e soprattutto possiamo andare a regolare con più precisione la temperatura colore, il bilanciamento del bianco. Possiamo scegliere addirittura una regolazione su 10 punti della scala di grigi. Oppure la tradizionale a due punti che è separata su basse luci, qua prendiamo la luminosità, oppure alte luci con il contrasto. Altre caratteristiche interessanti del TV L.I.G. sono il lettore multimediale da periferico USB, oppure la connettività Bluetooth. La connettività Bluetooth permette in modo molto semplice di collegare o delle cuffie Bluetooth, oppure di gestire dei dispositivi che inviano immagini, come possono essere dei cellulari, posso inviare al televisore un'immagine scattata con uno smartphone, oppure utilizzare il TV come periferica audio per un altro dispositivo. Quando invece collego una periferica USB, vedete, viene immediatamente riconosciuta dal televisore e sempre a questo menu in cui posso vedere l'elenco o di immagini o di file musicale o di file video. In questo caso ho un file MKV. La cosa interessante è che l'elettore multimediale del televisore supporta anche i sottotitoli. Ancora utilizzare le frecce direzionali del telecomando per saltare più avanti nella riproduzione. E premendo il tasto rosso del telecomando accediamo a questo menu che ci permette regolare il formato di schermo e gestire i sottotitoli.